è sempre più difficile trovare subito le informazioni che cerchi e sempre più spesso si leggono testi ed interpretazioni completamente forvianti e errate che peggiorano solo la situazione e creano ancora più confusione oramai purtroppo la rete diventa come il bar dello sport dove chiunque può dire tutto ed anche tutto l'opposto e di sicuro quando si parla di impianti domestici e di come riscaldare e raffrescare la tua abitazione le cose non migliorano affatto anzi peggiorano sempre di più da chi spinge solo un marchio come fosse la medicina universale a chi ti dice che il sistema migliore è il pelletola legna ce ne sono di tutti i tipi ma oggi concentriamoci solo su un aspetto quello della centrale termica per la tua casa no gas quella che ha bisogno di un solo contatore quello dell'energia elettrica perché tendenzialmente si cerca sempre e solo la marca della pompa di calore come se bastasse il motore più performante per vincere la gara di formula 1 scoprendo poi che la marca e il modello della termopompa è molto importante ma è solo un anello dei tre e non è l'unica scelta corretta da fare il primo elemento infatti è la progettazione della centrale termica perché a tutti gli effetti fa un'enorme differenza mentre la maggior parte dei tecnici del settore ancora oggi legge il libretto delle istruzioni per cercare di capire come si installa una macchina in realtà ogni installatore che si rispetti dovrebbe realizzare una centrale termica partendo da un progetto e chi ridige quel documento non deve conoscere solo le nozioni di base della termodinamica quelle che insegnano a scuola per capirci ma deve conoscere alla perfezione anche il sistema di riscaldamento di casa tua e quindi progettare e pensare anche alla distribuzione termica il secondo elemento è la scelta di materiali che andrebbero ragionati e scelti da chi progetta la centrale termica sempre in base alle esigenze dell'impianto di riscaldamento quello di raffrescamento e ovviamente anche quello di deumidificazione il concetto più importante è quello di dividere le zone di riscaldamento e quelle di raffrescamento per gestire in maniera sempre più raffinata e precisa la temperatura e l'umidità degli ambienti il terzo elemento infine è proprio la scelta dei materiali sicuramente la voce di costo più importante era termopompa ma non bisogna mai trascurare i serbatoi di accumulo dell'acqua tecnica e sanitaria le pompe di rilancio le valvole miscelatrici e gli altri piccoli componenti che premacchito sembrano non abbiano peso ma in realtà sono quelli che rendono efficace ed efficiente una centrale termica efficace ed efficiente una centrale termica proprio nei momenti in cui ce n'è veramente bisogno ovvero nei momenti in cui il carico di lavoro è importante quindi ora che lo sai quando arrivi a pensare a che pompa di calore scegliere ricordati che è solo uno dei tre componenti principali della tua nuova casa e che se vuoi avere i 365 giorni di comfort senza mai avere pensieri devi far bene tutte e tre le scelte vuoi capire come scegliere e non commettere errori te lo dico subito se vuoi ottenere il massimo dei tuoi impianti domestici ottimizzando il budget senza accettare compromessi clicca nel link che trovi nella descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica per oggi è tutto un saluto